Vediamo un attimo, Isabella. Carissima Isabella, che piacerebbe sempre. Puoi essere lo sponsor ufficiale della mia impresa. Non è il momento, Colombo. Ho speso una fortuna in cellulare e sono rimasta senza fondi. Mamma, e di quando è questo? Ho già la soluzione. Passa a Tim e raddoppi le tue ricariche. Con quello che risparmi il viaggio è già finanziato. Passa a Tim e raddoppi le tue ricariche per un anno. Vieni nei negozi Tim. Vai che ti porta un po' d'oro così ti rifai la corona. Grazie.